Si sono mescolati tra i bagnanti del lago di Castel San Vincenzo, pettorine, striscioni e megafono alla mano hanno voluto ribadire il loro no al progetto Pizzone 2. Un blitz in piena regola, quello degli attivisti del coordinamento che si batte contro l'ampliamento della centrale idroelettrica previsto da Enel, intendono tenere alta l'attenzione in vista della presentazione del piano da parte della società idroelettrica. Entro il 31 agosto infatti sarà presentata al ministero la stesura finale del progetto, ma le anime che si battono contro il piano hanno voluto esporre ai turisti le loro preoccupazioni sul futuro dell'invaso artificiale. Il progetto, a loro dire, è incompatibile con le peculiarità ambientali dell'area. Ma oggi volevamo raggiungere un po' chi fruisce di questo lago come turista. Diciamo che è una risorsa che per il turismo è estremamente importante. Pensare di limitarne la balneabilità significa veramente interrompere un ciclo positivo che si è avviato nell'economia turistica del paese. Quindi anche limitando la considerazione a questi aspetti economici è un progetto che assolutamente non ha senso. Una incursione è quella degli attivisti che viene condivisa anche dai bagnanti, alcuni dei quali assidui frequentatori del lago. Sicuramente verrebbe accadere non solo la bellezza del lago, che mi pare che sia il quinto o sesto lago più artificiale, più bello d'Italia, perché abbiamo anche le mainardi dietro, che sono le montagne, ma anche l'economia locale, perché io se devo venire qua e non posso soffrire del lago, non vengo più. È una manifestazione giusta che se no andrebbe a compromettere tutta la bellezza e la natura di questo lago, che come vedete sa mio figlio che si sta facendo il bagno e veniamo qua a posto a fare le vacanze da Napoli per goderci questa splendida vista, questo lago.